Ecco. Bene, allora buonasera. Allora, questo è l'ultimo incontro del corso di Blender 2.8. Blender 2.8, avete visto che abbiamo fatto una cosa abbastanza completa, direi, cioè abbozzata ma completa, nel senso che abbiamo visto delle basi di modellazione, alcune basi di baking e soprattutto, una cosa che abbiamo fatto in passato, abbiamo fatto pochissimo, abbiamo visto un pochino in dettaglio come si fanno fare delle animazioni, quindi abbiamo visto animazioni con i keyframe, abbiamo visto animazioni con delle key shape, credo, no? Era questo. E poi abbiamo visto delle animazioni più semplici ma molto ad effetto che sono animazioni prese direttamente con dei programmini come Mixamo, no? Mixamo, MakeHuman, eccetera. E abbiamo visto un po' come organizzare il tutto. Ovviamente sono degli accenni, noi siamo molto amatori, come avete visto. L'idea è quella di darvi un po' il germe per poter, chi di voi riesce a sviluppare in classe capovolta, quindi cercandosi altro materiale, oppure anche solo sperimentando sulla propria pelle. Il tutto lo facciamo, sapete, in craft con questo gruppo di persone, c'è Gigliola che tra l'altro è presente anche qua. Ricordo ancora che se qualcuno vuole fare donazioni, mi contatti, può fare donazione al gruppo Picaldo per le spese di supporto del server di Edu3D. E ricordo sempre per queste organizzazioni che stiamo organizzando questo corso con Michelangelo e altri, è fatto sull'Escape Room. Non so se avete già visto, siete tutti al corrente che da metà fine settembre ci sarà questo corso sull'Escape Room. Dunque, qualcuno mi sta scrivendo da qualche parte, facciamo così, vediamo un po' di tab, Facebook. Ah ok, c'è Gigliola che sta scrivendo in Zoom. Perfetto. Allora, io adesso, giusto perché mi fa tutti i bling. Vabbè, magari lo teniamo su. Allora, quindi siete tutti pronti per... Ah, Gianfranco Barbone e Godot parte 2. Allora, Godot parte 2. Allora, Godot, tra parentesi, voi sapete che in Blender prima c'era un motore, un engine, un game engine, e che poi hanno tolto perché hanno detto che viene gestito come open source da Godot. Quindi sembra che Blender in realtà stia spingendo su Godot e questa è una buona notizia. Ah, un'altra notizia proprio dell'ultima settimana, non so quanti di voi l'hanno vista, passare. Blender ha ricevuto dei finanziamenti o sta ricevendo dei finanziamenti da parte di Epix e Ubisoft, che sono delle grossissime case che fanno giochi, fanno gaming, e che hanno deciso di investire dei soldi o comunque dare un contributo per lo sviluppo di Blender. Quindi queste sono cose molto interessanti. Godot parte 2, senz'altro si farà qualcosa, credo a questo punto a partire d'ottobre, settembre direi di no, e l'unica cosa, ecco, bisognerebbe capire a che livello poi lo volete fare in modo da organizzare un piano, nel senso che in Godot avete visto che la parte poi più attiva è quella dello scripting, ma lo scripting di Godot è abbastanza impegnativo, quindi non è difficile, ma se uno non sa scrivere programmi... Allora, per fare un gioco con i ragazzi è sicuramente meglio Godot, per due motivi. Mi stanno chiedendo appunto, per creare un gioco con i ragazzi è preferibile utilizzare Godot o Unity. Allora, Unity è un sistema professionale che usa un linguaggio anche molto professional, questo linguaggio si chiama C-Sharp, è molto sofisticato, però tenete conto che quando scaricate Unity scaricate 5-6 GB di cose, compreso tutto l'ambiente di sviluppo Visual Studio, quindi è una roba abbastanza impressionante. Godot è un qualche cosa che si scarica in poco più di 20 MB, quindi è una cosa molto più intima, molto più semplice e tra le altre cose a noi piace, ci fa sempre più simpatia, così come spieghiamo Blender che è open source, ci fanno simpatia le cose che sono open source come appunto Godot. Ok, però torniamo un attimo al nostro Blender e vediamo di, vediamo un attimo una modellazione fatta con, vi ho promesso prima, quella che c'era prima, di usare un modificatore che si chiama Skin. Dunque, il discorso, mi stanno domandando se si può fare in realtà virtuale, di fatto, allora Godot e Unity riescono ad andare in realtà virtuale, Unity già più facile in realtà perché è più sofisticato, Godot, ci sono alcuni esperimenti che stavo esplorando, è un pochino più complicato. Diciamo che la risposta è tendenzialmente sì, Antonella, ma con un po' di difficoltà, speriamo che si sistemino delle cose che stiamo facendo. Ora, vado avanti, quindi su invece queste, su un'animazione. Allora, la mia idea è questa, è di fare, stasera vi faccio vedere un'armatura molto elementare che poi cercheremo di esportare con Verge 3D e poi vi spiegherò un attimino meglio il concetto di Verge 3D, che cos'è, non è perché l'ho selezionato. Comunque, prima di parlare di Verge 3D, prendiamo il cubone che abbiamo davanti e lo cancelliamo, però questa volta lo cancelliamo in Edit Mode, quindi facciamo Tab, mettiamo Screen Cast Keys, quindi vediamo i tasti premuti, sono andato in modalità modifica, Edit Mode e poi la cosa che faccio è cancello tutti i vertici, perché l'idea è quella di fare un omino partendo da le linee costituenti l'omino, quindi cosa faccio? Voglio fare proprio la silhouette dell'omino proprio con delle linee, quindi prima di tutto cancello il cubo che mi serve proprio solo come contenitore per le linee, poi vado, uno, anzi potremmo andare tre, allora facciamo così che mutiamo tutti, ok, sentivo un po' di disturbo, quindi ho premuto tre con il tasto numero numerico per vedere praticamente la mia area 3D da destra, quindi vediamo da, ah, right, da destra, la vedo da destra, ma va bene, uno vale l'altro, e su questa, a questo punto disegnerò un pochino di punti e userò la tecnica del control tasto destro. Ora il control tasto destro permetterà di scrivere, se io faccio control tasto destro, vedete che, anzi, vediamo un po', edit mode, seleziono un punto e qui faccio control tasto destro, ecco, vedete che a un certo punto compare un punto e il control tasto destro praticamente introduce un vertice quando siamo in edit mode. Questo è perché a questo punto da qua io cosa faccio? Vado per estrusione, nel senso che seleziono col tasto sinistro questo vertice, quindi è selezionato uno e poi lo estrudo nel tentativo di fare praticamente che estrudo con la E e quindi faccio praticamente, adesso vedete che comparirà praticamente questo qui, l'anca, il ginocchio e la gamba di un pupazzetto. Poi seleziono di nuovo il punto originale, faccio estrude e faccio, sempre con vari E, estrudo e faccio una seconda gamba e poi da qui, clicco, estrudo per fare il corpo di un pupazzetto, magari estrudo un'altra volta per fare il petto, e poi estrudo a questo punto per fare le braccia. Quindi stessa cosa, estrudo e faccio le spalle e le braccia. Dopodiché vado sempre qua ed estrudo per fare il collo e poi per fare la testa del pupazzetto. Magari li faccio due o tre volte, ok. Quindi vi ritorna che questo sia una specie di pupazzetto fatto con... Allora, inizialmente ho fatto CTRL, tasto destro per fare un punto e poi con varie estrusioni ho fatto questa cosa. Ora, notate che adesso noi lo facciamo molto velocemente, ma con la stessa tecnica che vi sto facendo vedere adesso, un po' se riusciamo a vederlo, c'è un documento di cui vi do il riferimento, lo scrivo adesso sia qua che in OpenSIM. Ecco, questa cosa qua è molto molto bella perché questo documento qua vi insegna a usare quello che stiamo facendo adesso, con Blender 279, ma per costruire che cosa? Un uccello. Non so se lo vedete. Quindi questo qui praticamente con pochi clicchi si arriva a produrre un uccellino, cioè un volatile. Però se la facessi adesso mi incasinerei durante la cosa, quindi io più che fare il volatile farò una figura più o meno umanoide. Comunque la tecnica è molto simile. Andiamo avanti a vederla, questa tecnica fatta così. Quindi la tecnica sostanzialmente implica il fatto di, una volta fatta la silhouette, bisogna aggiungere un modificatore. E il modificatore aggiunto è appunto lo skin. Quindi se noi aggiungiamo questo modificatore che, spostiamo questo di qua, dove non dia fastidio, aggiungiamo lo skin modifier, e vedete che lui prende la silhouette che ho scritto e la rende tridimensionale. Quindi è una specie di solidifier, prendendo praticamente la struttura che io gli ho dato. ma ancora meglio, se io aggiungo un altro modificatore che è il subdivision surface, e poi gli metto a tre i valori, vedete che ottengo di fatto una specie di pupazzetto. Quindi praticamente riesco a modellare un pupazzetto fatto in questo modo. Aspetta, vediamo un po' se così viene meglio. No. Lasciamo pure così. Quindi questo qui è il pupazzetto modificato, e ancora con i modificatori. Domande su questa velocissima modellazione di un omino? Noi peraltro questo omino possiamo selezionarlo, e poi magari se lo vediamo, io adesso ho premuto Z, premendo Z, praticamente si può vederlo in wireframe, e quindi vedere il contenuto. E poi se andiamo in tab, si vede il, in edit mode, si vede praticamente la struttura da cui siamo partiti, che è lì dentro, e questa struttura in realtà la si può, la si può modificare, nel senso che si può, andiamo un po' a comparso qualcosa, no, no, certo, non è detto che dobbiate farlo adesso concretamente, magari poi lo guardate poi dopo. L'idea, anzi facciamo così, lo rifaccio un secondo, lo faccio una seconda volta così, lo vediamo da capo, questo sistema, quindi facciamo new, e ne ripetiamo perché il procedimento così magari vi torna, no, quindi si parte col cubo, si va in edit mode, si cancella, e poi in qualche modo ci si allinea, no, per uno, tastellino numerico, e poi qua, essendo in edit mode, bisogna cominciare a fare control, tasto destro, ed è che compare un punto, e poi da qui facciamo varie estrusioni, quindi E, 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 poi da qua, clicco tasto sinistro, E, 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 ovviamente voi potete fare figure come volete, l'importante è fare le estrusioni, e poi estrudiamo, G, mettiamo qua, mettiamo non nemmeno qua, che ho visto prima, che c'era un'imperfezione, estrudiamo la spalla e il braccio, estrudiamo qua di nuovo, spalla e bracci, braccio destro, e poi qua estrudiamo il collo, e la parte, e qui andiamo sempre praticamente con estrusione a fare un po' la testa, ok? Quindi sempre partendo, sempre partendo da, da questo, quindi la cosa più difficile in realtà è fare questo modello, che tra l'altro se ci fate caso, quello che ha fatto questo articolo che vi ho dato, tra l'altro è abbastanza recente, che è di sei mesi fa, novembre 12 2018, lui cosa fa? Costruisce sostanzialmente, una, questa struttura di punti, vedete, fa da qua, passa la coda, fa i punti qua, e poi, e poi fa le gambe, fa le ali, e fa la testa, e fa il becco, no? Ora, tornando a noi, questo vuol dire sostanzialmente andare nei modificatori, di nuovo, aggiungiamo di nuovo il nostro modificatore skin, che è questo, gli aggiungiamo sotto, perché altrimenti è bruttissimo, un subdivision surface, questo, e abbiamo questa cosa qua, se vogliamo rimanere low poly, potremmo anche fermarci così senza fare altri lavori. Ora, se volete cambiare il, ok, diamo un po' qui, mi sembra che ci fosse, ecco, forse quella cosa più ideale per lavorare sullo skin, e usare questa selezione, cioè abilitare questa opzione, che vede anche i punti nascosti, no? E così si vede bene qual è la struttura sotto. Dicevo, una cosa fondamentale del modificatore skin, e il control A. Control A cosa vuol dire? Che si può prendere un punto, quindi selezioniamo ad esempio la testa, e poi facendo control A, praticamente si può gonfiare, no? Si può gonfiare, farlo diventare più o meno largo, adesso magari facciamo un po' più, mi tengo un po' più lontano, facciamo control A, ecco, più lontano E posso controllare, quindi posso controllare la testa, posso controllare anche, per dire qua, facendo control A dimensione di questa estremità, premendo anche qua, control A, control A, quindi control A praticamente gonfia o restringe, vedete, fa diventare a punta, quindi questo può essere importante, oppure si può selezionare il, questo che è un po', questo, quello che contro l'A qua, ecco, vedete che fa diventare un po' più largo, e gli dà un po' più di, di, di cosa, Quindi, cioè, li controllate, praticamente, e gli potete mettere, anche più muscoli, ad esempio qua, contro l'A, vedete che aumenta i muscoli, quindi così in pratica si, si può lavorare molto praticamente su queste cose qua, qui purtroppo c'è questo piccolo difetto, la testa che si comporta così, andiamo un po', comunque vabbè, poi ci provate a fare qualche esperimento, ripeto, serve per fare degli schizzi, non è niente di, non è niente di, di catastrofico, no? Comunque supponiamo, sì, il fatto che deformi la testa, quel coso lì, è purtroppo una bruttura, quindi è quello che dicevo, che questi, questi modificatori qua, sono molto belli, ma poi bisogna anche controllarli, oppure accontentarsi, insomma, del low poly che esce, nel senso che questo qui potrebbe essere un mostricciattolino. Ora, la cosa più interessante di questo, vabbè, un'altra cosa interessante del contro l'A, è che si può fare anche solo lungo una direzione, nel senso che se io seleziono, è più questo, che è, diciamo, il torso, e faccio control A, e poi metto, vediamo un po' se c'è il zecco, Y, ecco, in realtà, vedete che lo fa solo lungo una delle due direzioni, vedete che lo fa praticamente, tiene, oppure, contro la, X forse, vedete che lo stringe, lo appiattisce praticamente, vedete che lo fa piatto. quindi questo è il sistema che lo ha fatto in questo disegno, è il sistema che lo ha fatto per appiattire le ali, per renderle, diciamo, un po' più piatte, diventano cilindriche. comunque, giocando un po' con quelle cose, potete ottenere, diciamo, una figura già interessante, no? Adesso questo qui magari facciamo, control Z, lo teniamo, così, vabbè, teniamolo qua, c'è una specie di scafandro, Allora, supponiamo adesso di aver fatto un ominde di questo tipo qua. Ora, una cosa interessante del modificatore fatto in questo modo, è che si può, ora facciamo, togliamo, ok, così lo vediamo, ah, ecco cosa che va deformato, c'è le normali sbagliate, è possibile che c'è le normali sbagliate? Ci ha distrutto le normali, aspetta, allora, facciamo, ho fatto controllare, mi ha tolto il modificatore, provo a rimetterlo, lo skin, e non capita perché si è troccato le normali laggiù. Proviamo a vedere, cos'è che abbiamo fatto per questo disastro qua? Facciamo controllare? Le normali sono, sembrano più giuste. Vabbè, sentiamo, mettiamo, facciamo una cosa che più o meno stia in piedi, no, niente, ha tolto le facce, rifo, quindi, discard the changes, rifacciamo questa cosa qua, e proviamo a prenderlo in maniera un po' più, dunque, prendiamo dall'uno, quindi facciamo control, click, e, senti, facciamo una cosa molto più, terra terra, ok, quindi questa, e proviamo a farlo in maniera molto, molto limpida, quindi solo così gli mettiamo il modificatore, skin, che è questo, e poi gli mettiamo ancora subdivision surface, ah, è venuto molto più magro di prima, skin, beh, però a questo punto forse è fin troppo magro, quindi proviamo a, allora, qua, qua, facciamo, vediamo un po' se ce la facciamo senza distruggere niente, farlo un po' più cicciuto, ok, e poi vediamo se riusciamo a fare la testa un pochino più cicciuta, senza distruggere niente, vabbè, teniamolo così, tanto non, a me mi interessa farvi vedere, diciamo, la cosa che succede, abbiamo questo, questo modello di partenza, questo per esempio, e supponiamo di volerlo animare, allora, a questo punto una delle cose interessanti dello skin, è che ha la possibilità di creare automaticamente l'armatura, cioè se noi andiamo in object mode, così, vedete che c'è create armature, e che vuol dire che facendo, crea armatura, lui automaticamente mette le ossa, sceglie delle ossa, anche qua, in realtà, non mi piace troppissimo come mette le ossa, perché sono, vedete, le mette in uno, secondo me è un bacco della 280, nella 279, le metteva giuste le ossa, vedete che qui in realtà, non sono bellissime, però insomma, ai fini di quello che stiamo vedendo adesso, potrebbe andare, quindi in realtà, non so se cogliete l'errore, nel senso che questo, mentre questo qua, può andar bene, no? Queste ossa praticamente ruotano attorno al busto, ma queste qua sono invertite, quindi sono sbagliate, quindi in linea teorica, la cosa giusta da fare, sarebbe stata quella di invertire queste due ossa, che qui ho provato a invertire, e vediamo un po' se ci riescono, non sono tanti di nuovo, quindi se siamo in edit mode, qui si dovrebbero poter invertire le ossa, quindi facciamo, selezioniamo queste, facciamo, ricordo se era shift F, o alt F, alt F le inverte, alt F invertiva le ossa, a questo punto, in teoria, potrebbero essere anche messe, bene, comunque proviamo a fare un'animazioncina, sì, in realtà, secondo me, avevo fatto una prova prima di iniziare, ho visto che non erano perfette, quindi magari vi farò poi un video, dove cercherò di sistemarvi, rifarò quello che vi sto facendo vedere, quindi prendete quello che vi sto facendo vedere, come, diciamo, stato iniziale, ma probabilmente ci sarà da sistemare qualcosa, no? Quindi, supponiamo di sistemare questa cosa, quindi mettiamo, applichiamo i modifier che abbiamo fatto, quindi andiamo sull'object mode, prendiamo questa, e la, dunque, andiamo sui modificatori, e applichiamo lo skin, e applichiamo anche il subsurf. Non applichiamo l'armatura, perché se applicassimo l'armatura adesso, non potremmo muovere, no? Il nostro oggetto, il nostro, il nostro omino. Ora, proviamo a vedere se riusciamo a animarlo, speranzosamente, ci proviamo. Allora, per animare questo omino, cosa dobbiamo fare? Innanzitutto, dobbiamo selezionare l'armatura, e poi, avendo l'armatura selezionata, andiamo in pause mode. E poi, se, allora, in teoria, quando abbiamo fatto, l'aggiungere armatura, lui avrebbe dovuto già aggiungere anche il parenting, quindi, se noi prendiamo uno di queste ossa, e facciamo R, in effetti, dovrebbe muovere anche la gamba. Vediamo un po' se è così, allora, facciamo così, andiamo in armatura, gli mettiamo gli stick, che sono un pochino più semplici da vedere, ok? E quindi, vedete che, muovendo, ruotando questo stick, si muove, praticamente anche la gamba dell'omino, e così come si muove, quindi, anche l'altra gamba. Quindi, in realtà, se funzionano correttamente, vedete, questo omino, lo possiamo animare, no? Quindi, questo era solo per vedere che l'animazione funziona più o meno bene. Quindi, possiamo abbassare leggermente questo osso. E questo qui può essere un inizio di animazione, non quella cosa che abbiamo visto prima. Per l'animazione completa, dovremmo fare un po' di frame, no? Quindi, facciamo così, allora, da pause mode, innanzitutto, facciamo, selezioniamo tutte le osse, pause, facciamo clear transform, così abbiamo l'omino fermo, e quando l'omino è fermo, selezioniamo tutto, quindi, da object mode, selezioniamo quindi la mesh, e l'armatura, e poi vediamo qui, c'è un altro punto, che dovremmo riuscire a salvare la location, e la rotation di questo oggetto. Adesso andiamo in pause mode. Ah, ok. Quindi, ho notato che il modo migliore per animare un omino, è quando chiede di fare, qui, quando chiede proprio di salvare l'intero crattere. perché quando si salva l'intero crattere, salva tutte le osse. Quindi, nel frame 1, salviamo praticamente questo pause mode, fatto così, e poi proviamo a spostare, quindi facciamo G, Y, spostiamo l'omino un pochino più avanti, G mettiamo nel, anzi, mettiamoci nel frame 20, voglio sempre, poi G, Y mettiamo l'omino un pochino più avanti, e poi, visto che siamo in pause mode, proviamo a selezionare un osso, e fare un primordio di animazione, quindi abbiamo fatto, cambiato un po' di posizione, no? E poi riproviamo, sempre in pause mode, a selezionare tutta questa cosa qua, quindi lui con le cose, facciamo I, intero crattere, e quindi abbiamo anche la seconda posizione. Vediamo se ha funzionato, vedete che si funziona, perché il frame 1 è fermo, il frame 20, praticamente, è fatto così. ora, selezioniamo soltanto con la B, il frame 0, questo, e facciamo, selezionarlo tutto, si ce l'ha selezionato tutto, vedete che c'è un bel po' di roba selezionata, facciamo Shift D, per duplicarlo, e lo mettiamo nel frame 40, qua, ok, quindi andiamo praticamente qui, nel frame 40, e però lo spostiamo tutto, quindi facciamo G, Y, e lo spostiamo parecchi più avanti, quindi lui praticamente abbiamo fatto, lo facciamo tornare fermo, ma spostato un pochino più avanti, e proviamo a fare di nuovo l'intero carattere, ora vediamo se l'animazione, più o meno fa quello che ci aspettiamo, quindi sì, quindi questa qui è una micro, una micro animazione, che vedete che fa muovere l'omino, in questo modo, per farlo, ed è il modo, in cui accennavo anche in Facebook, in cui si riusciva a farlo tornare, esattamente nella posizione di partenza, facendo proprio copia e incolla, della posizione iniziale, posizione 1, e si copiava, adesso in questo caso, l'ho fatto andare più avanti, gli metto come 40, come frame massimo, e poi vediamo se riusciamo a, dove se andiamo in, spostiamo la chat, questa, andiamo in object mode, poi, vediamo un po', se ci riusciamo a, a vedere un po' cosa succede, vedete che in effetti, l'animazione c'è, bruttissima, fa schifo, eccetera, però il senso era, di rendere un po', di farvi vedere un'animazione, che non fosse proprio solo, il cubo o la sfera, come avevo accennato prima, e vi torna, queste cose che, vi sto facendo vedere, quindi con, ecco qui, magari se togliamo così, in fronte, vediamo il nostro omino, senza, senza, senza le ossa dentro. Ok, allora, supponiamo adesso, beh, aggiungiamo magari un pochino di materiale, le solite cose stupide, che ho messo prima, per mettere, un, un materiale, quindi prendiamo, questo omino, gli mettiamo un materiale, il materiale, lo mettiamo, facciamo di un colore azzurro, questo, gli mettiamo, vabbè, leggermente metallico, molto riflessivo, così, vedete, che diventa proprio, interessante, poi in più, facciamo tasto destro, lo shade smooth, che diventa bello liscio, mi torna? quindi è diventato molto plasticoso, metallico quasi, e poi l'altra cosina, che abbiamo visto, nella, nelle puntate precedenti, era di metterci, un, un environment, quindi andiamo, qua nel mondo, background, al posto di color, qui, gli mettiamo, un environment texture, nell'environment texture, gli selezioniamo, blend, e qui abbiamo la famosa, piazza San Marco, oppure, ma c'è anche un piccolo porto, facciamo anche questo, quindi, abbiamo questo qui, che è un piccolo porto, ecco, e abbiamo praticamente, il nostro omino, che sta in una, in una specie di, eh, posto, mh, ora quindi, questo omino, se lo animassimo, vedete che, fa più o meno, quella azione, che abbiamo visto, mh, ehm, volendo questa cosa qua, la possiamo anche, eh, rendere un pochino più, leggermente più complessa, nel senso che, possiamo aggiungere, un piano, dove l'omino cammina, e magari fa anche un po' di ombra, questo piano, su cui cammina, gli mettiamo, un, un nuovo materiale, che magari, mettiamo un colore, buh, tipo questo, magari un po' scuro, tipo, una cosa tipo terra, e, togliamo i riflessi, insomma, vabbè, c'ha delle cosine lì, e poi, gli mettiamo ancora, una, una seconda animazione, magari, dove c'è una pallina, che si muove, e vediamo se ce la facciamo, eh, a fare tutto ciò, che volevo farvi vedere, quindi, l'omino è messo lì, facciamo shift A, mettiamo una, lo è, una UV sphere, quindi una sfera, la mettiamo qua, la sfera, gli aggiungiamo anche lei, un materiale, a sua volta, il materiale, anche questo, gli mettiamo un colore diverso, e, visto che parliamo di sfere, possiamo, facciamo, le nostre sferine, strane, che infleccano un po', dappertutto, mettiamo smooth, ok, quindi questa è una sferella, vediamo se questa sferella, riusciamo a fare una micro animazione, quindi animiamo anche la sferella, quindi al front, al frame 1, gli mettiamo la location, e poi andiamo al frame 40, prendiamo questo, G, Y, e la salviamo, in quest'altra location, quindi qui praticamente, vedete che abbiamo due oggetti, che sono animati, contemporaneamente, diciamo che abbiamo proprio due animazioni, vi è chiaro questo, il modo in cui praticamente, abbiamo animato due cose insieme? Allora, a questo punto, niente, l'argomento, interessante, è pubblicare tutto ciò, in qualche modo, che sia gestibile, e fruibile, per esempio, su Sketchfab, ho visto che, ci abbiamo provato, nelle settimane scorse, scorse, e invece, un altro modo interessante, è quello di pubblicare, su questo, si chiama Verge 3D, quindi, adesso qui l'ho già installato, Verge 3D, ma, poi vi farò vedere, come si fa a installare, comunque, il concetto è che, una volta che, si è, adesso, non so se bisogna selezionare, proprio gli oggetti, non ho ancora visto, comunque, facendo uno sneak peek, si dovrebbe vedere, la scena che abbiamo fatto, in teoria, si dovrebbe vedere, caricata direttamente, in, ecco, in Verge 3D, e questo, è un'applicazione, praticamente, ha prodotto, un file, .gl.tf, con l'animazione complessiva, con tutti gli elementi dentro, quindi, ci ha messo, direttamente, le cose che ci interessano, da, da Blender, e ha, e ha riportato, tutte le animazioni, questa è una specie, di pubblicazione, vedremo, nel senso che, questa scena, che avete visto, noi la possiamo, in realtà, pubblicare, su Verge 3D, come facciamo a pubblicarla, su Verge 3D, si dovrebbe, andare su, App Manager, quindi, si va su, App Manager, e su, App Manager, ci sono un insieme, di applicazioni, già, già costruite, e queste applicazioni, già costruite, è possibile, creare una nuova, comunque, qui ci sono tante, già interessanti, allora, il significato, di queste, applicazioni, sono, il seguente, allora, queste sono, praticamente, dei file Blender, cioè, questa è una città, che se io vado ad aprire, quindi, se apro, openfile, city.blend, mi apre, proprio, il file.blend, dove qualcuno, ha costruito, praticamente, una città, vedete, questo, è, credo, che, l'abbia aperto, con, Blender 279B, ma, comunque, la stessa cosa, si può fare, vedete, che c'è questa città, che è stata costruita, e, possiamo chiudere, era solo per farvi vedere, che praticamente, è costruita, con una serie, di oggetti, con tutte le loro, le loro, le loro, cosine, eccetera, eccetera, ma, una volta costruita, la, una scena 3D, quindi, adesso usciamo, questa scena della città, la si può, diciamo, sperimentare, attraverso, il GLTF, cioè, praticamente, cliccando qua, viene lanciato, il file GLTF, corrispondente, e, lanciare il file GLTF, vuol dire, entrare fisicamente, come fossimo, in Sketchfab, dentro, il nostro ambiente, e poi qua, la cosa interessante, è che posso fare, W, e muovermi, mi muovo col mouse, faccio W, vado avanti, e vedete che, praticamente, navigo, e se poi, ripremo, non W, ma S, non ricordo mai, cosa che blocca, c'è, uno, qualche cosa, che adesso, purtroppo, non ho trovato, la documentazione, di questa, però, è possibile, navigare all'interno, navigare all'interno, di questa, cosa che avete costruito, e, la cosa interessante, è, che, questa, questa cosa, è pubblicabile, direttamente, sui Verge 3D, i web server, di Verge 3D, quindi, quindi, praticamente, viene presa quella, quella cosa, e viene pubblicata, nel loro server, quindi, se io faccio così, praticamente, viene presa l'applicazione, viene messa su, Verge 3D, come se fosse Sketchfab, ok, e poi dà un link, che è questo, e questo link, si può anche pubblicare, su Facebook, l'ho fatto, ed è praticamente, un file GLTF, e questo file GLTF, se lo apro, lo carica, e io ho, praticamente, esattamente, la scena, che è, pubblicata, su internet, come se fosse su, dove i comandi, purtroppo, non ho trovato documentazione, su questi comandi, nel senso che, danno per scontato, evidentemente, che siano quelle, di main test, e, non, cioè, insomma, però, insomma, la cosa è molto, molto, è già molto d'effetto, no? Ora, l'altra cosa, interessante, di questa cosa qua, vedete che, alcune, delle, delle immagini, Verge 3D, sono in blu, blu vuol dire, che sono interattive, interattive, vuol dire, che è stato costruito, uno scripting, che ci lavora sopra, quindi, il, io ne ho visto, qui c'è anche un e-learning, adesso c'è un'industria al robot, lampa animation, quindi, tanto per intenderci, ma, vediamo un po', allora, beh, l'applicazione che ho fatto io, l'altra volta, era questo, Pacchio 3, che è un'applicazione cina, vedete che, se clicco, si ferma, se riclicco, riparte, no? Una cosa molto, elementare, e l'avete vista, più o meno, nella, nella, nella cosa, e quindi, ho fatto il programmino, vedete, bootless, qua, cliccando su bootless, ho fatto, questo script, che praticamente, ehm, faceva questo effetto qua, quindi, praticamente, ho messo un po', come si fa con scratch, chi di voi conosce scratch, tutti, ecco, qui praticamente, cosa succede, che qui viene fatto, quando, quando viene cliccato il cubo, allora, si dice, che, di fermare il cubo, cioè, se c'è un'animazione, che è in esecuzione, sul cubo, allora, pausa l'animazione, se invece, non c'è un'animazione, la reattiva, qui tra l'altro, se volendo, si potrebbe fare il contrario, cioè, se io sposto questo qua, e questo qua, praticamente, quando clicco sul cubo, lui, eh, ferma la sfera, e viceversa, quindi, si salva, e poi si lancia, questo è un programmino, che, in teoria, andiamo un po', facendo, si fa refresh, vedete che qua, ecco, se io clicco sul cubo, vedete che ha fermato la sfera, e se clicco sulla sfera, ha fermato il cubo, e così via. In pratica, si, si lavora, in maniera visuale, adesso qui, a solito, non entriamo, nel dettaglio, di queste, di tutte queste cose qua, ma, ad esempio, negli script, che hanno fatto loro, ci sono delle cose, molto, molto interessanti, di qualcuno, le avevo viste, vediamo qua, questo, industrial robots, se riusciamo a capire, cosa fa, allora, bisogna studiarselo un po', non l'ho ancora visto, switch to free mode, facciamo qui, quindi, praticamente qui, vedete che, praticamente qui, si riesce, a lavorare, su questo, c'è anche la VR, switch to free mode, click to enable, editing, show the movie, rotate, qui, qui, si può, praticamente, ruotare, dei pezzettini, del, non so se vedete, tra l'altro fa anche rumori, adesso qui, forse voi non lo sentite, comunque, si può, praticamente, lavorare, come se fosse, un, come se fosse, un giocattolino, davanti a voi, ed è, ed è molto, molto interessante, no, il fatto di fare, tutto questo, insieme di cose, c'è un solo problema, di questa applicazione qua, di Verge 3D, è che, è un'applicazione, a pagamento, quindi, non è di quelle, che piacciono a noi, normalmente, loro dico, non usarla, in situazione, di produzione, e che bisognerebbe, comprarla, costicchia anche un po', però, per fare delle cose estemporanee, per far vedere velocemente, delle cose, che poi, magari, non, non rimangano, può essere utilizzata, abbastanza liberamente, quindi, può essere usata, come vetrina temporanea, di cose, e l'unica, vincolo, è che, non si può usarla, per, delle cose definitive, quindi, non si può, a meno, in un punto, non prendere una licenza, so che fanno anche, delle licenze, per scuole, un po' come, come ho visto, per, Minecraft, eccetera, diciamo che io, l'ho fatto vedere questa cosa qua, perché qualcuno di voi, tra l'altro, non mi ricordo più chi, non so se è presente qua, in questo momento, ma aveva chiesto, qualche mese fa, di approfondire, proprio, Verge 3D, vi risulta, e all'epoca, e l'avevo visto, che mi sembrava una cosa, un pochino complicata, tra l'altro, bisogna scaricare, 260 megabyte, di cose, ma, adesso, visto che avete visto, avete avuto, un po' di problemi, a pubblicare su Sketchfab, allora, ho avuto, il tempo, insomma, di analizzarlo, per vedere un po' come funziona, però aspetta, vediamo un po', se c'è qualcos'altro, anche di carino, ah, questo qui, D-Learning, un po' cosa fa, questo qui, D-Learning, ah, questo qui, praticamente, è un programmino, che praticamente, spiega, come si, come si piega, una scatola, praticamente, bisogna, cliccare, sulle varie cose, e far vedere, la scatola, che si, che si costruisce, questo è, è molto carino, fare questa animazione, queste cose qua, credo che siano fatte, in, in, in Blender, direttamente, tra l'altro, qui credo che ci sia, proprio anche, il, E-Learnings, e anche proprio, il file in Blender, che si può vedere, anche se qui non lo vedo, dove l'ha fatta, però, comunque, ci sono queste cose qua, allora, giusto per, completezza, vi spiego, come si scarica, quindi, Verge, 3D, se voleste, per caso, provarlo, quindi Artist Friendly Toolkit, for 3D Web Experiences, fatto da questa azienda, questa c'ha tante cose, eccetera, quindi fa più o meno, quello che avete visto, anzi, molto di più, in realtà, e a un certo punto, credo, con Try, c'è la possibilità, di scaricarsi, la versione, per 3DS Max, e per Blender, per Blender, si scarica qua, e, scaricandolo, praticamente esce un zip, il quale zip, praticamente, quando si scarica, sono 260 MB, 260 MB, praticamente, si apre, vedete, viene una cartella, che si chiama Verge 3D, questa cartella Verge 3D, deve essere unzippata, e messa in un punto, in un punto, quindi, praticamente, Verge 3D, e l'avevo messo sotto, GApps, qua, un punto, su cui avete diritto, di scrittura, quindi, qui dentro, c'è tutta, la, le cose che servono, dopodiché, l'installazione, di questa cosa, in realtà, è spiegata, anche, da qualche parte, qua, vi spiega un po', nel video, vi spiega, come, come si installa, ma, l'installazione, sostanzialmente, significa, prendere, Blender, andare in file, dove c'è, ah no, edit, sono, edit preferences, qui si va su, system, no, file paths, qua, in file paths, qui in file paths, dove è scritto data, scripts, dovete mettere, dove avete, unzippato, Verge 3D, dopodiché, e questo potete, eventualmente, anche, cliccarlo di qua, per andarlo a cercare, salvate, la configurazione, quindi, salvare la configurazione, vuol dire, save preferences, poi, la cosa importantissima, bisogna uscire e rientrare da Blender, perché se no, non lo vede, allora, una volta che si è uscito e rientrati da Blender, a questo punto, dovete abilitarlo, e l'abilitazione si fa sempre, dalle preferences, si va sugli add-ons, e qui si cercate, Verge, 3D, e dovete mettergli la spunta, qua, una volta messa la spunta lì, è arrivata esattamente, nella situazione, che vi vedete a me, quindi vedete, sneak peek, e app manager, in realtà, credo che ci sia qualcosa altro, probabilmente da queste parti, o tools, no, questa è un'altra roba, sostanzialmente, sneak peek, è un metodo, praticamente voi, qualunque scena voi abbiate, potete con sneak peek, vedere come verrebbe, in formato gltf, e qui tra l'altro, potete navigare, esattamente, come se foste, in quel modo, e mi ci perdo un po', ma funziona, più o meno, e invece, con app manager, si entra in questa, in questa cosa qua, ora, innanzitutto, prima di finire, di pubblicare, questo mino, su Verge 3D, mi fermo un istante, per chiedervi se, vi sembra, chiaro, e se, se vi sembra interessante, con il funzionamento, di questo, di questo sistema, mi sentite sempre, il formato gltf, ve lo potrà spiegare, o scrivere, in chat, Gianfranco, che, credo che lo usi, o comunque, se non lo usa, ci va molto vicino, per Godot, nel senso che, il formato gltf, dovrebbe essere visibile, da Godot, se non vado errato, sicuramente, è visibile, da i Fidelity, probabilmente, anche da Sansar, insomma, da tutte, diciamo che gltf, è un formato molto compresso, quindi molto usato, ed è open source, quindi, viene usato proprio perché, ad esempio, in Second Life, in OpenSim, sapete che si usa il collada, il punto die, no? ma il punto die, anche per cose molto semplici, tende a diventare elefantesco, troppo grosso, mentre invece, con il formato fbx, che adesso qui non si chiama fbx, o glbt, questo qui, glbt, ho detto gltf, i formati, appunto, diventano molto compresse, quindi cose anche sofisticate, stanno in poche decine di megabyte, Allora, il fatto che il add-on sia un po' pesante, è vero, ma dipende, nel senso che, comunque, sta facendo delle cose molto, molto sofisticate. Diciamo che io l'ho guardato, e ho capito che funzionava, un po' come una sorta di alternativa a Sketchfab, e comunque è una freccia in più, insomma, un'informazione in più da sapere. E in tutto il workflow che ho fatto vedere prima, in realtà, un pezzo che manca, è proprio la pubblicazione effettiva del vostro, della vostra animazione. E questa animazione, devo ancora aprire, questa animazione in Godot con il DAO, ho capito, va benissimo. glbtf, comunque mi sembra che possa essere importato anche in Godot, se non vado errato. comunque tu hai fatto già delle cose notevoli. Nel caso, se non è importabile direttamente in glbt, lo potete, sì, quando siete in Blender potete salvare in altri formati, tanto se siete in Blender, quindi potete fare quello che volete. come si fa pubblicare? velocemente, perché è un po', quindi praticamente si deve andare nell'app manager, e nell'app manager occorre crearsi un'applicazione nuova. L'applicazione è qua a destra, e gli mettiamo praticamente qui, omino, vediamo un po' se ce la facciamo, o, ah, devo proprio scrivere, omino, ah no, qua devo scrivere, quindi qui scriviamo omino, skin, no? skin, perché, e qui si chiamerà omino skin. dopodiché, qui basterà fare create app, ok, quindi lui ho detto che ha creato il progetto omino skin, quello che lui ha fatto è di far apparire qua un omino skin, e questo omino skin ha, intanto potete poi fargli puzzle, qualcuno di voi mi ha chiesto come fare i puzzle, ma soprattutto c'ha un file.blend che si può aprire, e questo file.blend, vedete che in questo momento contiene soltanto questo, e l'ha messo qua, è stato gapps, verge 3d, applications, omino skin, qui dove c'è il punto blend. Quindi la cosa che si può fare è sostanzialmente cancellare, adesso qui è intanto con 279, perché il default è 279, comunque si può selezionare la scena o il cubo, cancellarlo, e poi vediamo se funziona quello che aveva proposto, non mi ricordo, Rosalia forse, vediamo se faccio ctrl c, in blender 280, e vado nell'altro, che è questo, e provo qui, allora qui intanto c'è forse una luce di troppo, cancelliamo, e poi facciamo ctrl v, ok, e qui abbiamo messo praticamente l'omino, qui su blender 279, quindi verifichiamo, verifichiamo se ce la facciamo, buonanotte Gigliola, vediamo se ce la facciamo qui a fare questo porting, nella scena, su blender 279, non ha preso però il, lo sfondo, però vediamo un po' se ce la facciamo a salvare questo, allora per poter ottenere quello che vogliamo fare, vediamo un po' se l'animazione si è retenuta, facciamo play, sembra di sì, adesso qui purtroppo c'è il motore, questo qua, che è un po' lento, non si vede un po' anche, da che capite l'enorme valore di poterlo fare con blender 2.8, che è più veloce, comunque supponiamo che questo vada bene, bisogna fare il salvataggio, dell'omino skill.blend, e poi perché funzioni, bisogna ancora fare l'export, gl, ah no, bisogna fare l'export in formato glbt, vediamo un po' se funziona già così, non manca un pezzo, forse ce la facciamo, quindi se qui abbiamo minus skin, e proviamo a lanciare l'applicazione di luminoskin, no, ha preso quella sbagliata, perché bisogna esportarlo in glbtf. Niente, qui adesso, nella versione che ho adesso, mi entra nel blender 2.79, quindi non riesco a farvelo vedere, nei tempi che avrei voluto, mi farò poi un video nei prossimi giorni, dove vi faccio vedere tutto questo workflow, tutto in blender 2.8, che l'ho fatto nell'altro computer. però diciamo, il concetto sembra di averlo chiarito, no, come, come, ma allora, il blender 2.79, ho visto che, almeno fino al momento, pubblicare su Sketchfab, è migliore del blender 2.8, più che altro è supportato, mentre invece, su verge 3D, su verge 3D, ho visto che supporta tranquillamente il blender 2.8, adesso, nel mio computer, adesso qui, purtroppo ho messo che il, il file, cioè, quello che apre il file, è blender 2.79, quindi, non viene molto bene la demo, cioè, dovrei cambiare il, non ti carico la texture, ma di Sketchfab, intendi, vero Angela? Sì. Infatti, era per quello che era, il tentativo di passare dal verge 3D, era quello di, riuscire a ottenere un sistema simile a Sketchfab, che avesse, meno paranoia, cioè, che entrassero le texte, le animazioni, più facilmente. Tenete però conto, che nel momento in cui, blender 2.8 diventerà, ufficiale, cosa che verrà, nelle prossime, entro, fine di questo mese, probabilmente, Sketchfab, si adeguerà, anzi, è anche possibile, teoricamente, che Sketchfab, abbia già presentato, se si chiama Sketchfab, blender 2.8, magari ha già presentato, la versione, eh, 13 marzo, ah, non official Sketchfab exporter, for blender 2.8, quindi ce n'è al momento, uno non ufficiale, e probabilmente ci sarà quello, però è già interessante, che già ad aprile, 25 aprile, avevano fatto un exporter, quindi, credo che siano molto vicini, questo me lo marco, però direi che forse, l'ideale sarebbe, e un po' se su wiki dice qualcosa, non dice molto su dove, però vediamo quando è che l'hanno toccato, sei giorni fa, che hanno aggiornato, e un po', e un po', relit, candidate, no, non si sa, va bene, allora, niente, io mi impegno adesso poi, a fare nelle prossime settimane, un qualche video, per provare a vedere, o con questo, o se per caso esce quello ufficiale, a fare proprio l'export, delle animazioni, su Sketchfab, e comunque completare, quello che abbiamo visto adesso, sia per il modificatore skin, che avete visto che fa, alcune cose, alcune cose, che abbiamo visto un po' in velocità, quindi magari lo rivediamo, e, e quindi facciamo un po' tutto il giro, che ho fatto stasera, magari fatto, fatto un pochino più a modino, e possibilmente senza, quel problema, che abbiamo visto prima, quel problemino, l'importante, la cosa più interessante, per me, è che queste cose, che vi faccio vedere, siano per voi interessanti, poi non sono obbligatorie, quindi non ho detto, che voi, tutto quello che mi vedete fare, dovete ripeterlo, però, sono sempre, delle cose, che sono interessanti, saperlo, e saperlo usare in Blender, se non è poi alla lunga, poi, vi può portare a fare, delle cose, degli sketch, lavorare, lavorare, lavorare sempre più, diciamo, più semplicemente, con Blender, e con questi strumenti, il senso di questo corso, comunque, non era quello, di farvi usare Sketchfab, o di farvi fare animazioni complessissime, ma era solo per farvi capire, come funzionavano, concettualmente, le animazioni, quindi, la cosa che io sarei già contento, la cosa che sarei già contento, è che voi abbiate fissato, le parti base, cioè, il fatto che, praticamente, capire come funziona, questa linea temporale, capire come si riesce, praticamente, a, spostando gli oggetti, salvando i keyframe, ottenere dei movimenti, e questa è una cosa che, in realtà, nei corsi che abbiamo fatto, in tutti gli anni passati, non abbiamo mai fatto, quindi, è abbastanza una novità, insomma, l'animazione, e io spero che, sì, beh, tu sei uno di quelli che, hai, diciamo, impare più in fretta, più in fretta, e quindi dai, moltissima soddisfazione, non so, io spero che, nelle prossime versioni, di Blender, 281, 282, migliorino altre cose, anche sull'animazione, perché secondo me, c'è ancora un po' di cose contorte, nell'animazione di Blender, ad esempio, ho visto delle cose equivalenti, fatte in Godot, Godot fa anche questa animazione, ma le fa in maniera, un pochino più, più limpida, cioè, mi piace di più, come fa Godot, altre cose che hanno, hanno detto che faranno, in Blender 281, dovrebbero migliorare parecchio, dovrebbero migliorare parecchio, lo sculpt, ho letto che è da alcune parti, che doveva fare lo sculpting, in modo tale da avere, lo sculpting su Blender, quasi uguale a Zbrush, non so se conoscete Zbrush, Zbrush è un, Zbrush è un sistema, praticamente considerato molto intuitivo, mentre invece adesso in Blender, lo sculpting si può fare, quindi noi possiamo prendere, questo nostro oggetto, e poi quando andiamo in sculpting mode, in realtà si può lavorare, su questa sfera, ma non è ancora molto immediato, quindi secondo me c'è molto da lavorare, infatti se vi ricordate, abbiamo fatto una micro lezione all'inizio di questo corso, con Emanuele, dove spiegava come fare lo sculpting, vedete che si può praticamente, faccioccare la sfera, e modificarla, ma, insomma se non c'è il controllo, non è molto, beh comunque qualcosina si può già fare, quindi si è fatto già una roccia, adesso con poco ho trasformato la sfera in una piccola roccia. Va bene, allora, 22.48, quindi siamo ai confini, spero che abbiate gradito il corso, e ripeto, tutto agosto per fare gli ultimi compiti, a settembre Escape Room, e poi riprenderemo un corso a questo punto, farò poi un piccolo sondaggio per capire quale corso, credo che sarà sicuramente Godot, però cerchiamo di capire quale parte di Godot vogliamo poi esplorare un po' tutti insieme. Con questo è tutto, buone vacanze a tutti, e ci sentiamo, ci vediamo nei prossimi settimane. e ci vediamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.